La nostra vita senza questo amore che soffre e rischia non va. Se noi cristiani non abbiamo questo amore che soffre e rischia, rischiamo di passere solo noi stessi. Pastori che sono pastori di se stessi, che invece di essere pastori del grece sono pettinatori delle squiscite di se stessi. Pastori di tutti